Safin Finanziamenti. Valutiamo il tuo oggetto prezioso da tuo impegno ed emettiamo subito un finanziamento pari al suo valore. Vieni a trovarci! L'istituzione del Senso Unico di Marcia in via Luigi Ferrara è stato l'argomento al centro della riunione della Commissione Consiliare Mobilità e Sicurezza, svoltasi ieri pomeriggio presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. L'idea di attuare il Senso Unico è data dal fatto che l'importante arteria, che attraversa la frazione di pregiato, si caratterizza per la presenza di una strettoia all'incrocio con via Nello Salsano, che quotidianamente genera ingurchi nelle ore di punta. Dalla riunione a cui era presente anche l'ingegnere Claudio Troisi, redattore del Piano Traffico del Comune, è stato possibile apprendere che in queste settimane si sta monitorando il traffico veicolare che attraversa la zona. Dai primi dati è emerso che nella fascia oraria dalle 7 alle 20 il flusso predominante è quello che va in direzione nord-sud. In una sola ora, dalle 7 alle 8, è stato appurato che la maggioranza dei veicoli proviene da via Pasquale Santorillo o da via Vitale. Pertanto, al fine di rendere più fluido lo scorrimento del traffico nel senso di marcia che attraversa la strettoia, appena terminata la fase di studio, si prevede di istituire in via sperimentale il Senso Unico di Marcia in direzione nord-sud, in via Luigi Ferrara. Nel 2011, l'istituzione del Senso Unico, all'epoca in direzione sud-nord, finì al centro di numerose polemiche che indussero l'amministrazione Galdi a fare marcia indietro. Nel corso della riunione della Commissione, l'ingegnere Troisi, inoltre, ha fatto sapere che è in fase di monitoraggio anche il traffico in corso Palatucci, ipotesi sul tavolo e quella di rendere via Tommaso Gaudiosi a doppio senso di marcia. Inoltre, nel corso dell'incontro, sono state discusse due proposte avanzate da Fratelli d'Italia e dall'associazione Cava 4.0. Entrambe mirano a modificare il piano della sosta in vigore, cercando di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Nello specifico, una prima proposta riguarda i residenti delle frazioni cavesi, costretti quotidianamente a servirsi delle proprie autovetture per raggiungere il centro cittadino, dove sorge la maggior parte dei servizi pubblici e privati. L'idea è quella di permettere a ciascun residente, in possesso di autovettura, di parcheggiare il proprio mezzo negli stalli blu di sosta cittadina, escluse le aree automatizzate, usufruendo, a fronte del pagamento del prezzo stabilito per l'area interessata, del doppio del tempo consentito in via ordinaria. L'altra proposta, invece, è relativa alla riduzione dei posti auto che si avrà con l'avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza San Francesco e dei relativi parcheggi interrati. Secondo l'articolato progetto di Fratelli d'Italia, che prevede circa sette idee da adottare per un piano di sosta e mobilità straordinario, si ricaverebbero 77 posti auto nella zona sud della città. Per entrambe le iniziative proposte, l'ingegnere Troisi si è riservato di valutarne la fattibilità.